In apertura il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Abruzzo, dai dati emerge che il tasso di positività dato dal rapporto positivi tamponi è aumentato di circa due punti in percentuale, è salito al 6,6%. Ma per tutti gli altri dati abbiamo in collegamento Fabio Lussoso che ci parlerà anche di altro. Buonasera Fabio. Sì Paolo, buonasera. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo davanti il piazzale della misericordia di Pescara per il consueto bollettino sull'andamento epidemiologico nella nostra regione. Diciamo subito che rispetto alle ultime 24 ore si registrano 594 nuovi casi di età compresa tra i 7 mesi e i 102 anni. I positivi con età inferiore, 19 anni, sono 101. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1689 dall'inizio dell'epidemia di età compresa tra i 56 e i 96 anni. Ma a destare maggior preoccupazione in queste ore è soprattutto l'andamento del tasso di contagio. Il tasso RT infatti è peggiorato nella nostra regione. Una notizia positiva è giunta questa mattina dall'Istituto Nazionale Spallanzani di Roma, ovvero che il virus isolato su un paziente di Avezzano colpito dal Covid, del rientro dall'Umbria, non è riconducibile alla cosiddetta variante sud-africana come si ipotizzava, come si pensava in un primo momento, ma quella più diffusa sulla nostra regione, ovvero quella inglese. Così come ha confermato ai nostri microfoni il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, il dottor Claudio Damario, che abbiamo ascoltato su questa intervista che lancio subito. Saluto e ringrazio Diego Martelli e poi la linea può tornare allo studio. Questa variante sud-africana non c'è? No, in Abruzzo non c'è ancora una variante sud-africana. Ho parlato con l'Istituto Spallanzani che avevamo messo in allarme per avere notizie appena questa variante sospetta del paziente di Avezzano fosse stata resa disponibile. Loro sono molto ortodossi, quindi aspettano di sequenziare tutte le componenti del virus e ci hanno confermato che si tratta della classica variante inglese, che è abbastanza diffusa nella nostra regione. Si trova anche nelle piccole comunità, nelle comunità montane. Abbiamo variante inglese persino nella zona Peligna, nella zona di Rocca Casale. Abbiamo variante a Pacendo, quindi è una variante che è molto presente nella nostra regione. E quindi teniamo sempre alta la guardia, dobbiamo tenere sotto controllo tutte le catene di trasmissione, quindi questo è fondamentale per contenere. Sappiamo già che il nostro RT si mantiene su livelli ancora da zona arancione, però non c'è stato un grandissimo miglioramento. Noi dopo due settimane di zona rossa ci saremmo aspettati un pochettino una flessione più importante. Ne stiamo ancora a 1,13 e quindi vuol dire che bisogna ancora contenere, certo bisogna fare analisi molto più puntuali nei comuni. Sul fronte delle strutture sanitarie qual è la pressione e come sta rispondendo la struttura sanitaria regionale? Allora abbiamo una pressione più elevata sull'area di Pescara perché sull'area metropolitana c'è stata una importante socialità nelle ultime settimane precedenti a questa nuova impennata. Questo però ha portato a un'esposizione di casi per cui adesso ci troviamo a dover trasferire pazienti per fortuna in una rete che comunque avevamo programmato sia di terapia intensiva che di subintensiva. È stato dato mandato comunque a tutte le AS di rimodulare le attività, per cui laddove aumentino gli ingressi di pazienti con sintomatologia importante, si vanno a ridurre le attività programmate e si conservano quelle cosiddette chirurgiche o quelle salvavita. Quindi questo è l'unico sistema per impedire di dover far ricorso a strutture da campo, strutture che non sono neanche molto, sotto certi aspetti, garantisti di un'assistenza ottimale. E la cabina di regia nazionale che si è riunita in serata dovrebbe confermare la nostra regione in zona arancione. Il rischio è classificato piuttosto alto, ma al momento non vi sarebbero cambiamenti rispetto alla settimana in corso. Va tenuto conto tuttavia che ci sono 24 ore in più per decidere, visto che questa volta i nuovi colori scattano dal lunedì e non dalla domenica. Ricordiamo però che nell'ambito della regione Abruzzo ci sono due vaste aree di zona rossa, ovvero le province di Chieti e Pescara, così come sono in zona rossa cinque comuni dell'Aquilano. Ateleta, Campo di Giove, Canzano, Gioia di Marsi e Rocca Casale. Per i comuni aquilani il provvedimento si è reso necessario a causa dell'aumento delle varianti che stanno prendendo il sopravvento sul virus originario.